accompagnata dal signor Cristian Moschini viene dalla Inghilterra questo giudice per il campionato europeo ed ora il nostro giudice italiano il dottor Gianmarco Aranio che viene invitato a giudicare in tutti gli show del mondo e quindi è ben voluto e ben conosciuto da tutti come tutti i giudici che abbiamo qui naturalmente dall'Egitto il dottor Nasr Marei and then we went to Hungary again a very well respected man and a well respected breeder please welcome Mr. Thomas Rombauer dall'Ungheria il giudice Thomas Rombauer and to Switzerland a gentleman that is well known for breeding his straight Egyptians please welcome Mr. Ferdinand Schwestermann dalla Svizzera il signor Ferdinand Schwestermann and last but no means least from the beautiful country of Syria please welcome Mr. Basil Jadan e dalla bellissima Siria il signor Basil Jadan so ladies and gentlemen these are the six people that will be responsible for judging this 2013 European championships which I can declare now is open questi sei giudici hanno la responsabilità di giudicare questo campionato europeo quindi buon lavoro ecco che inizierà il concorso so if we could ask Mrs. Sue Woodhouse to leave the arena please and these are the judges for your first class of fillies your first judge Mr. Gianmarco Araño Mr. Nasser Marei Mr. Thomas Rombauer Mr. Freddy Schwestermann and Mr. Basil Jadan we are ready in the collecting ring we are ready to get underway with class 1A of the yearling fillies la signora Sue Woodhouse lascia il ring in quanto giudicheranno solo 5 giudici per ogni categoria entreranno ora le puledere della categoria 1A puledere di un anno una categoria sponsorizzata dall'allevamento Burani Arabians grazie a tutti 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 Il link specifico è webtv.arabianessence.com Grazie a tutti. The people watching throughout the world on the live stream. We hope that you are going to enjoy this 2013 European Championships being held here in the beautiful city of Verona. We'll be right back. 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 We're right back. We're right back. We'll be 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 right back. We're right back. 5x10. We'll be right back. 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 We're right back. We're right back. We're right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We're right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. We're right back. We're right back. We're right back. We're right back. 19, 19. 19. We're right back. 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 We're right back.